Allora, gli ho andato a lavorare con il signore Dijonai, mi sono fermato con il mio collega in un corso del popolo, a salutarlo, come è solito, la mia mattina. A questo punto qua, arrivando, vedo arrivare questa ragazza, una ragazza che arrivava a piedi per andare a lavorare, e vedo questo nigeriano, la sigano, parlando, la... Allora, a questo punto che questa ragazza, in fronte a questa ragazza, ha cominciato a cipare la pugna, la calcio, la butta a parterra e tutto, e dopo, a questo punto qua, mi ha detto, ma, questo faile, no? E dopo, io così mi scorrere su di me, e dopo, con la scoppa del mio collega, la butta del rosso, mi ha fatto andare, e non si chiama, no? Dopo, la ragazza che mi ha dato 113, sono arrivati, e dopo, a questo punto qua, non me l'ha preso, il via Trieste, ma, non l'ha arrestato, e... Quanti giorni di prognosi ha? Otto, otto giorni. E anche al stesso motivo, mi ha detto la ragazza che passava a piedi, se siamo andati a lavorare, e non altri, e stando là, e mi ha detto anche a me, che non ha detto per difendere questa ragazza, mi ha detto la donna, e mi ha detto anche a me. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.